Ma voglio elogiare in particolar modo anche voi, camerati di Lecce, perché avete dimostrato coi fatti i quali soli contano, che sapete astrarre dai particolari interessi della vostra città, quando gli interessi di più grande portata siano in gioco. Non solo non avete protestato, ma avete accettato e compreso la decisione del governo che creava le due nuove province di Vindicimindano. Nella vecchia terra del Salento tre sono ora le province, ma voi avete inteso che questa era una necessità di carattere nazionale. Questo dimostra la vostra sensibilità patriottica, la vostra disciplina nazionale, dimostra il vostro grado alto di civismo. È un esempio che voi avete dato alla intera.